Il mondo sta cambiando e il cambiamento porta con sé delle sfide. Come si usa l'innovazione per migliorare la vita quotidiana delle persone? Come puoi adattare i tuoi servizi alle esigenze dei singoli consumatori? Il modo in cui interagiamo con la tecnologia sta cambiando. Siamo più connessi che mai e ci aspettiamo delle interazioni significative e personalizzate con i marchi, i prodotti e i servizi che scegliamo. La voce sta diventando uno dei mezzi più apprezzati dalle persone attraverso il quale comunicare con la tecnologia. Le voci esclusive di sintesi vocale e neuronale di ReadSpeaker aiutano i brand a creare dei legami più profondi con i loro clienti. Benvenuti nel mondo di ReadSpeaker dove le interazioni vocali realistiche con i dispositivi sono all'ordine del giorno. È perfettamente normale che un assistente vocale ti aiuti in un processo. Non c'è più bisogno di perdere tempo in attesa al telefono e la voce inconfondibile del tuo marchio di fiducia è immediatamente riconoscibile su molteplici punti di contatto. Vuoi saperne di più su quello che la voce può fare per te? Vai su readspeaker.ai e scoprilo ora!